Spazio alla musica o meglio ad un progetto culturale. Ne parliamo direttamente con l'idiatrice. Vanessa De Nicolò, bentrovata. Grazie, buongiorno a voi. Non prendete impegni per i prossimi tempi perché sta per arrivare Soul Keys Tour primavera estate 2012. Un progetto musicale nato da una tua idea, dalla tua passione per le grandi voci black del panorama internazionale con l'obiettivo di valorizzare finalmente, aggiungerei, la figura femminile. Io voglio saperne assolutamente di più. Allora, ti parto dal principio. Allora, io come hai giustamente anticipato tu, ho sempre avuto una grandissima passione per le voci black, per le grandi voci quali la voce di Rita Franklin, Gladys Knight, Chaka Khan, fino alle voci più recenti quali Joe Stone, Amy Winehouse. E ho deciso di dedicare un tributo esclusivamente a loro perché da sempre nella discografia internazionale la figura della donna è sempre stata un po' marginale, è sempre stato un po' più difficile riuscire ad entrare in un contesto molto più grande rispetto a quello al quale siamo abituati. Ci tengo particolarmente a portare avanti questo progetto musicale perché ritengo che la figura della donna all'interno della musica, ma all'interno dello spettacolo in generale, sia una cosa importantissima, una cosa che tra l'altro tira un sacco di gente. Assolutamente, la musica è donna. E infatti, già se tu esamini la parola con l'articolo è femminile. Quindi ci siamo, il progetto Soul Kiss rappresenta una grande opportunità, ora tornando all'aspetto più istituzionale, una grande opportunità per un pubblico senza età perché si potrà scoprire oppure riscoprire a seconda dell'età appunto ritmi e groove totalmente black, il tutto ad opera della tua splendida voce che se vorrai magari a fine intervista ci farai ascoltare e del sostegno della tua band che purtroppo non abbiamo qui oggi. No, loro non ci sono, però è come se ci fossero, parlo ovviamente io a nome di tutta la band. E sì, dici bene, io intendo chiamare una serie di personalità, diciamo così, persone di tutta l'età perché voglio far riscoprire a persone di una certa età le sonorità più vecchie, più antiche, magari riarrangiate e voglio attirare tutti i giovani appassionati di musica, specialmente di musica black e intendo fare questa cosa qua proprio perché voglio dare proprio la possibilità a tutte le persone di poter gustare di una musica che qui in Italia purtroppo non viene molto valorizzata, come la figura femminile, sempre messa da parte. È vero, è vero, ecco sì. La band? Da che composta? Allora, noi siamo 5 elementi, alle tastiere c'è Manele del Carmine, un genio pazzesco, io vi invito veramente a seguirci nelle piazze e nei locali, poi c'è la batteria Vito Grazia di Santo, poi c'è un basso, Domenico di Girolamo, la chitarra Gio D'Edda e poi ci sono io, Vanessa De Nicolò. E beh, direi che sarebbe anche sufficiente solo questo. Ma non è tutto perché il progetto Solkis contempla anche la partecipazione dell'associazione Doppia Difesa, da anni impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, che tra l'altro ha una testimonia all'illustre, quale Michelle Hunziker. E questo sì che valore ha aggiunto. Sì, io ho preso a cuore questo tema della violenza sulle donne, ho deciso di sostenere molto calorosamente l'associazione Doppia Difesa, come tu hai ben detto, di Michelle Hunziker, proprio per toccare un tema che purtroppo viene molto sottovalutato in questa società. La violenza sulle donne è una cosa molto, ma molto brutta, molto pesante e ritengo che le donne, così come i bambini, perché li metto allo stesso piano, non debbano essere toccati, forse neanche verbalmente. Bisognerebbe avere rispetto per le donne. Con questo progetto musicale io intendo donare, volta per volta, durante le nostre manifestazioni, i nostri concerti, donare i ricavati degli sponsor e magari anche della gente tra il pubblico all'associazione, esclusivamente. Molto bene, quindi da una donna per le donne, potremmo dire. Sì, insomma, quasi una femminista incallita. Quasi. Quanti uomini, eh? Tremate, tremate, vanno a essere tornate. Allora, ad ogni evento ci sarà anche la partecipazione di attori, comici, cabarettisti, non sarà solo musica? No, sarà un vero e proprio multishow, proprio perché vogliamo offrire uno spettacolo a tutto tondo, a 360 gradi, vogliamo divertire tutti quanti, sia con la musica che con la comicità, che anche momenti seri offerti appunto dall'associazione Doppia Difesa. E proprio perché voglio dare proprio il vero senso dell'arte a 360 gradi. Molto bene, sono d'accordo. Quindi non ci resta che prendere carta e penna per segnare i primi appuntamenti e soprattutto per capire dove venire a seguirvi. La prima data utile è il 30 marzo al doppio zero di Trigiano, vi aspettiamo intorno alle 22, non più tardi, mi raccomando. E poi ci saranno altre date, St. Patrick di Barletta, Maggio e tante altre ancora. E poi ci sarà il tour vero e proprio estivo. Quest'estate gireremo tantissimi comuni, tantissime piazze, conversano Polignano, Altamura, Minervino. Ruvo? Ruvo, devo chiedere al manager, non so se è in trattative o meno. Comunque ci possiamo aggiornare tranquilla, possiamo aggiornare tutto quanto su Facebook cliccando Soul Kiss, che è il nome del gruppo, e lì ci sarà il calendario con tutte le date disponibili. Io vi aspetto a Ruvo e vi faccio il mio più grande in bocca al lupo. Crepi, ciao, grazie. Grazie a te.